Il governo americano andrà a pagare le cure per quelle persone che purtroppo sono ammalate di coronavirus e che non hanno una assicurazione sanitaria. A annunciare tale situazione, tale situation, è stato proprio il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Ha annunciato questa bella notizia per tutte quelle persone che non hanno un'assicurazione sanitaria e adesso però vedranno a essere pagate le cure mediche per quanto riguarda il coronavirus, il virus che sta letteralmente flagellando tutto il nostro pianeta, la Terra. E che non sta lasciando scampo di sorta alle diverse nazioni del nostro amabile pianeta. Vi ricordo che in cima alla lista c'è la Spagna in ambito europeo, poi c'è subito dopo l'Italia, poi se non erro la Francia, in ambito più intercontinentale abbiamo proprio gli Stati Uniti che non se la passano molto bene. Detto ciò, grazie a tutti per la visione e per l'ascolto di questo video, iscrivetevi, commentate, dunque cure gratuite per chi è ammalato di coronavirus negli Stati Uniti d'America.